Meghan Markle sfida la regina Elisabetta e fa preoccupare Harry, questa è la verità Meghan Markle, non riesce a sottostare in pieno al protocollo reale e con frequenza lo infrage Nellultimo episodio sfida la regina Elisabetta indossando le zeppe, odiate dalla sovrana Pare, che il suo stato faccia preoccupare Harry, il principe oltre ad essere in ansia per la possibile sfuriata della nonna Teme soprattutto per la gravidanza di Meghan ed molto apprensivo nei suoi riguardi Lo testimoniano gli ultimi scatti del tour in Australia, che sta vedendo protagonisti i duchi di Sussex I due consorti reali, che sono sempre sembrati molto innamorati, in questi giorni durante il royal tour australiano, appaiono ancora più uniti e complici Meghan ed Harry, dopo la visita a Melbourne, sono tornati a Sydney e nel quarto giorno del loro viaggio in Australia hanno preso parte a un cerchio antinegatività con un gruppo di surfisti sulla Bondi Beach La duchessa di Sussex, in quelloccasione si è presentata con un max abito a righe, sotto il quale ha indossato Le tanto famigerate zeppe, odiate fortemente da Elisabetta 2 E' noto infatti che la sovrana più volte ha rimproverato la cognata di Meghan, Kate Middleton, per quelle calzature E ora anche Meghan è stata contagiata dall'amore per le zeppe Me c'è di più, pare che anche Harry, abbia sfidato la nonna Elisabetta, infatti durante il rito con i surfisti australiani entrambi i consorti reali sono rimasti a piedi nondi Insomma un ulteriore gesto romantico di Harry, per evitare che l'ira della regina, si scagli solo contro Meghan Non lo sappiamo, ma è certo che Harry, sia molto preoccupato per la consorte in dolce attesa Harry, manifesta la sua ansia per la gravidanza di Meghan Sembra proprio che il futuro papà, il principe Harry, sia molto in apprensione per lo stato delicato della moglie e lo dimostra con i gesti e gli sguardi Secondo gli esperti di linguaggio del corpo infatti, l'ansia del duca di Sussex, per lo stato interessante della moglie è apercepibile Harry è diventato sempre più protettivo Mentre si ricavano alla spiaggia, il duca, spaventato, ha tenuto la fronte aggrottata e lo sguardo basso per controllare bene il terreno sul quale stavano camminando E allo stesso tempo teneva stretta la mano di Meghan, per sorreggerla e istintivamente proteggerla Per i più attenti, tutti questi sarebbero segni evidenti di un eccessivo stato di appressione del principe, nei confronti della consorte Anche se la gravidanza di Meghan procede nel migliore dei modi, i duchi, preferiscono non lasciare niente al caso Intanto l'amore di Harry e Meghan si è rafforzato I duchi del Sussex, stanno riscuotendo un enorme successo tra il popolo australiano Che si trova estremamente colpito ed affascinato, dalla naturalezza e semplicità con la quale i due consorti reali, ogni giorno dimostrano il grande amore che li unisce, sguardi dolci, carezze, e abbracci discreti Gesti spontanei di un sentimento che sembra ogni giorno sempre più vero e intenso, che questo nuovo meraviglioso arrivo Il primo royal baby della coppia, completerà e renderà sempre più solido B Grazie per la visione!